8 ore alla sera così, per tanto si muovono in giro questa canzone da una bandesa è una che stagliettino significa desiderio io mi chiamavo fuori da questo desiderio carmale invece purtroppo non è tanto di torna a galla ma probabilmente mi fate parte anche voi perché alla fine dei conti penso che non è che no non mi guarda solo i maschietti la voglia di quello per me, la voglia di quella per lui, la voglia di tutto la sensazione piccola questo movimento dell'ambiente e delle sue cose che non abbiamo, che vorremmo avere, che non abbiamo avuto e non abbiamo avuto il sangue questa canzone è lei, Endless Deezza Eccolo 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 Eccolo